bella ragazzi come vedete mi è arrivato un altro pacco oggi nuovo sito dove ho shoppato vediamo cosa c'è dentro genesi a maglia c'è vediamo come si presenta come ti sentire che etichetta nike al luogo del brasilio il codice qr di tetto all'interno non è tra i fit luogo ricamata la perfezione anche il luogo nike perfetto qua sarà meglio il brasilio della coppa america metto il vetro il vetro classico senza nome vediamo se c'è la tigetta interna tessuto molto sottile devo dire veramente ben fatto quello all'originale bene ragazzi siamo giunti alla fine del video vi lascio tutti i link in descrizione per acquistare questa maglia e moltissime altre utilizzate il mio codice sconto per risparmiare alla prossima grazie a tutti